E' partita la serie numero 4 Per la rappresentativa Rosà in corsia 1 Peruzzo Elena In corsia 2 Turin Mariana Società Nuoto Gemonese In corsia 3 Parolini Viola Vittoria Lata Nuoto La corsia 4 D'Aminato Elena Antares Nuoto Alla 5 Marsico Arianna Stile Libero SSD Alla 6 Pavangreta Stile Libero SSD Alla 7 Pado Inel Elena Stella Marina Alla 8 Marco Nato Maddalena Sporting Club Noale Ricordiamo all'atleta Finotto Andrea della Rana Azzurra Di venire a ritirare il proprio tesserino federale Finotto Andrea della Rana Azzurra, grazie Sono in partenza per la serie numero 3 Per i 100 Farfalla Ragazzi Femmine Alla corsia 1 Lago Greta Mirano Nuoto Alla 2 Zanelli Silvia Franciacorta Sport Alla 3 Tartaglia Francesca Stella Marina Alla 4 Corda Martina Rappresentativa Idros Alla 5 Bernardi Debora Rappresentativa Idros Alla 6 Sperotto Francesca Maria Arcatim Alla 7 Ceolin Greta Stile Libero SSD Alla 8 Spavento Sofia Rana Azzurra